Oggi ragazzi spieremo il server del mio amico Questo mio amico si chiama Gabriel, l'avete già visto altre volte Però in pratica qua ci giocano diciamo certe persone, fra cui anche io in questo server E... guardate qua Guardate, allora questo è la casa di un altro, ok, che gioca qua E questa è una casa, devo dire, caspita, cioè a me piace davvero tanto questa casa Anche se in realtà non ci sono mai andato, fassù Nel caso stai vedendo questo video, Gabriel è stato molto bello spiarti il mondo Complimenti, poi con le shader rende ancora di più Guardate qua che bello, cioè bellissimo, complimenti Davvero, oddio, cosa sto facendo Davvero un mondo ben fatto, cioè caspita, poi è tutto da scoprire, no? Guardate qua, wow, ma che bello Eh, ci sono addirittura, ma questa è tipo l'isola No, cioè lui vive praticamente nel nether Questo mio altro amico Che vabbè, anche lui avete già visto sul canale Questo mio altro amico si chiama Angelo, ok? E... caspita, devo dire che sono veramente bei... bei mondi Però io qua posso fare una cosa, direi Posso fare assolutamente una cosa Cioè mettermile lì tra e scendere così, perché non ho intenzione di scendere normalmente Guardate, allora, questa è la casa del proprietario del server, no? Aspettate, anche qua Eh, aiuto! No! Mannaggia Gian Giuberto! Ok, ce l'ho fatta Allora, questa casa, prima mi tolgo le litre, se no qua muoio E mi metto anche gli stivaletti Ok, questa casa, devo dire che è molto bella Anche questa casa, è veramente... Vedo che sono impegnati davvero tanto a farle, a fare queste case Ah, poi mi sembra anche che abbia tipo... No, abbia fatto... Abbia ristrutturato la casa, quanto vedo Poi qua sotto si scende, questo è il suo magazzino Veramente, anche qua, molto bravo Bravissimo E... wow! No, è bellissimo, quanto ci hanno messo Io qua non voglio sapere cosa hanno fatto Probabilmente hanno usato il disguise Sono restato scioccato per qualche minuto Ma vabbè Beh, devo dire che è veramente... Anche questa è una bellissima casa, molto grande Cioè, nel senso, se stiamo qua ad esplorarla tutta Caspita, non finiamo più Quindi, evitiamo Fatemi sapere se volete un altro episodio Ancora più dettagliato di questo Che io ve lo porto tranquillamente Allora, poi Cos'altro hanno costruito? Vediamo, perché io... È da tanto che non ci gioco in questo mondo Perché sono impegnato, no? Con YouTube, con... Con le varie cose Wow, che bella teca Bellissimo Ah, poi hanno un plugin qua Dove si possono comprare determinate cose Molto bello Bellissimo, complimenti E poi qua ci sono tutte le cani da zucchero Ah, e poi qua è la zona nether dove si può andare nel nether Vedete? È molto bello Ma no, vabbè È bellissimo Poi guardate che triste Questa è casa mia Cioè, io qua ho detto Ah, che bello Si, gioco Poi dopo non ho più continuato però Adesso vi voglio far vedere Una casa Di una mia amica Ok? Che non è questa Che questa è un'altra casa Di un'altra giocatrice del server Che per ora non gioca più Se stai vedendo questo video Giocatrice del server Please rientra Ci manchi troppo Ci manchi troppo Che però non posso nominare qua Perché, vabbè Appartiene diciamo ad un altro youtuber Ecco E quindi Nel senso appartiene Nel senso fra molte virgolette Allora questa mia amica Che si chiama Fede Che avete anche lei visto Qua sul canale Guardate che bello Cioè, vabbè Bellissimo Mamma mia Bellissimo Bellissimo Complimenti Complimenti davvero tanto Allora questa si è la casa Di Fede Come potete vedere Adesso entro Perché c'è nel senso Non è che possiamo fare A meno di entrare Ah, questa è la zona animali Guardate che bello Non spia nelle casse Giusto per Perché Per rispetto Giustamente Perché Non si spia nelle case Nelle casse altrui Diciamo Ne nemmeno nelle case In realtà Perché Però, vabbè Io posso Io ho questo grande privilegio Va bene Noi siamo amici Quindi possiamo farlo Possiamo farlo tranquillamente Scusate per il colpo Al microfono Però dicevo Ma che robe Mamma mia Wow No Sta piovendo Mannaggia Gian Giuberto No Ma come faccio A farvi vedere le cose Mannaggia Gian Giuberto Assolutamente Non userò il comando Per togliere l'acqua Gabriel Assolutamente no La pioggia volevo dire Vabbè Per il video No Vi devo far vedere Quindi non è che sto facendo La vanilla Ora altrimenti Non toglierei la pioggia Qua cos'è che c'è Casa di Chiara Sorella di Angela Fredda Potete entrare tutti In primis Ok Praticamente dovrebbe essere La sorella di Angelo Quello che vedete voi Che carino Però cavolo Cioè Bellissimo mondo Complimenti 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 a voi Veramente Cioè Nel senso A quelli che L'hanno fatto Se state vedendo questo video Davvero bravi Bravo Gabri Bravo Brava Fede Ange Eccetera Molto bello Molto bello Poi qua Qua si scende in caverna Tenebrosa Beh fatemi sapere Se volete vedere altre costruzioni Perché in questo mondo Ne hanno fatte altre Anche più lontano E poi guardate E poi guardate qua Cioè hanno messo Il beacon Il beacon Super quanto Ricchissimo Cioè Wow Ricchissimissimo Cioè scusate Ma guardate Quanti Quanti Veramente difficile Cioè Fare un mondo così È veramente difficile Soprattutto in vanilla Ora io non so Se è stato fatto Tutto in vanilla Penso Penso di sì Comunque Intanto le mie scarpe Scorreggiono Fate finta di niente Penso sia stato fatto Tutto in vanilla Alla fine Perché Non penso Utilizzino la creativa Mamma mia Cioè Bellissimo Perché poi Io ho smesso Di guardare Di controllare Questo mondo Tanto tempo fa E poi guardate Qua cosa c'è In teoria c'è Se non mi ricordo male Giusto La farm Di Grano Ah No Non ho rotto niente Per fortuna Però Direi di non salire Ulteriormente Altrimenti qua Faccio un casino E qua in teoria C'è il villaggetto Quello classico No Di minecraft E quindi Va bene Ok Niente di che Qua c'è Sempre normale Però Bellissimo mondo Io forse dovrei Rifare la mia casa Però Ora sto diciamo Un po' Un po' Impegnato Sono E quindi niente Vedrò Cosa riesco a fare Cosa non riesco a fare Comunque Non so se ci sono altri segreti Ah Non vi ho fatto vedere Un'altra cosa Una cosa Non vi ho fatto vedere La casa di Chiara Di Chiara Quella che faceva video Con me Quella Chiara La chiachira Si si chiama Lei in minecraft Guardate Guardate qua Che bello Cioè Che cute No vabbè Il loro mondo Bellissimo Bellissimo Che poi Dico il loro mondo Ma sarebbe il nostro mondo Perché anche io ci gioco Eh però Ed è un po' che non ci gioco Uh wow Wow Poi qua c'è il creeper Bellissimo Poi non so se Scusate se magari Non ho controllato La casa di qualcuno Cos'è che c'è scritto Qui giacciono i resti Di Nino 1 Ti amerò Ah Scusami Scusami Questi zombie Questi zombie Questi zombie Sono proprio assassini Schifo Dicevo qui Eh no Scusate Qui giacciono i resti Di Nino 1 Ti amerò sempre Maialino mio Cuoricino Beh Giustamente Una storia d'amore Fra Chiara Fra Chiara E Nino Eh Vabbè Non si giudicano I gusti altrui A Chiara Piacciono i maialini Ad altri Piacciono i gelati No Cioè È tutta una varietà Incredibile Oddio Ma che bella La notte Con questa shader No vabbè Ma poi con quell'isola Là in alto Guardate Camera da letto La mia camera da letto Che è questa qua Cioè È tristissima Ma poi con le torce Che è schifo Boh Che è schifo Guardate Io spero Proprio Io spero Propriamente Proprio Di Cambiare No Di farla meglio Questa casa Perché Wow Guardate che bello Ah Con le shader No vabbè Ma è bellissimo Dormiamo Perché è meglio così Dormiamo Quindi Dunisiani Grazie per aver guardato Questo video Fatemi sapere Se volete vedere Altri video Dove spieghiamo I mondi Segreti Dei miei amici Perché In teoria Ce ne sono anche altri E ce ne sono anche altri Che i miei amici hanno E così Ve li faccio vedere E li spiamo insieme Magari li griffiamo anche Sapete che non sarebbe Una brutta idea Griffarli Eh Eh Però ovviamente Con le copie Ovviamente Cioè nel senso Non è che distruggo Il loro mondo Però Gli faccio un bello scherzetto Eh Beh 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 Ci starebbe come idea Vabbè Comunque Grazie per aver ricordato Questo video Ripeto Se siete arrivati Fino a questo punto Siete bravissimi E commentate con Tastiera Nei commenti Iscrivetevi Iscrivetevi al canale Se volete vedere Altri miei video Perché i miei video Sono bellissimi Come No vabbè scherzo E quindi Ci vediamo Al prossimo Video Duniziani Ciao Che bitch Che sono No vabbè No vabbè No vabbè